Ben ritrovati a tutti carissimi amici chitarristi, spero tutti voi abbiate passato un buon Natale e questo video è per dare una risposta a un nostro amico dal nome impronunciabile e vi assicuro che non ho capito da dove mi ha scritto per futuro, ma ho scritto in inglese e mi pregava di dargli praticamente il setup di un preset, di un suono relativo a un video che ho fatto in precedenza ed era praticamente il brano Crying di Satriani che altro dire, andiamo prima a sentire, vi faccio sentire con la chitarra singolarmente come suona poi andiamo a sentire un pezzettino di base e poi vi metterò in sequenza tutte le foto del Pod X3 Live per il settaggio, sicché chi ha una macchina uguale o un XT o un mitico fagiolo rosso eventualmente può copiarsi i parametri ed avere lo stesso suono null'altro da dire, andiamo a sentire subito quello che vi ho descritto poc'anzi grazie a tutti 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 grazie a tutti